Musica Buongiorno e benvenuti ad un'altra delle nostre video rubriche. Oggi parleremo delle piante acquatiche tropicali. Le piante sono un elemento estremamente importante per la creazione dell'habitat in acquario. Oltre alla loro funzione decorativa, le piante costituiscono la base per la struttura dell'ambiente acquatico e offrono così nascondiglia agli animali che poporano l'acquario, in modo da creare un ambiente più simile a quello naturale, riducendo così lo stress per i pesci. Inoltre, le piante nell'acquario sottraggono all'acqua numerose sostanze nocive, come anche i nutrimenti alle alghe. In basche, con piante che crescono sane e robuste, si crea più velocemente un equilibrio biologico stabile. Oltre alle luci, le piante necessitano di una serie di sostanze nutritive inorganiche. Le piante acquatiche assimilano queste sostanze o attraverso le foglie, direttamente dall'acqua, oppure dal fondo attraverso le radici. Per una crescita sana è indispensabile che tutte le sostanze nutritive essenziali, che sono anidride carbonica, nitrati, fosfati, potassio, ferro e magnesio, siano disponibili in quantità sufficiente. Grazie per averci seguito, un saluto e l'appuntamento va alla nostra prossima videorubrica.